Grazie a tutti. Grazie a tutti. Svolgono funzioni di consiglio e amministrazione personale dei ruoli degli ispettori e sovrintendenti della Polizia. Inoltre è stata presidente del gruppo di lavoratori per la revisione del regolamento di esercizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Tanta esperienza che ora sarà al servizio del territorio, come confermato nella lettera di saluto. Mi accingo ad assolvere le mie funzioni di rappresentante dello Stato, scrive, con la consapevolezza, l'orgoglio e l'entusiasmo di essere stata chiamata al servizio di un territorio e di una comunità unica per tradizioni, cultura, operosità, vivacità, fascino e bellezze naturali. Nel pieno rispetto dei diversi livelli di governo, con la serietà, la dedizione e l'imparzialità di chi agisce per il bene pubblico e la diffusione della legalità, unitamente alla determinazione, concretezza e passione che mi appartengono, sarò sempre al fianco di chi opera per promuovere la crescita culturale, economica e sociale della collettività. Confido nella piena e leale collaborazione delle istituzioni e di tutte le componenti delle società civile che condividono i valori di libertà e di progresso civile e sociale, condizioni oggi più che mai indispensabili per superare le problematiche e le difficoltà del momento e mantenere sempre alto il prestigio della comunità, nell'assicurare la vicinanza al cittadino sempre e comunque nelle emergenze e nelle criticità, così come nei momenti di gioia ed il mio impegno al più costruttivo dialogo interistituzionale, e porgo alla popolazione, alle autorità civili, militari, religiose e responsabili delle autonomie locali, alle rappresentanze politiche, economiche, professionali, sindacali, alle istituzioni culturali, agli organi di informazione, i miei più calorosi saluti e tra i primi impegni da affrontare per il neoprefetto la prossima tornata elettorale alle amministrative.